Buonasera ragazzoli, buonasera, buonasera. Buonasera. Come state? Benissimo. Bene, 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 bene. Voi state sempre bene comunque, eh? Minchia, mai che vi prende qualcosa. Io in questo momento sono qui, ma sono in vacanza, quindi sto benissimo. Bastante. Devo dire, sto di merda, scusa. Ma questo è il giorno in cui piove, se non ricordo male. Dove vado io piove due, tre volte l'anno, quindi. Eh beh, potrebbe piovere proprio quelle due o tre volte in quel periodo. Vabbè, vabbè. Però c'è un altro problema da quale parte, eh? Arriva la sabbia. La calina. Calina. La calina, la calimma, la caluria. Vabbè, ragazzi, allora, stasera Daniele ha avuto una splendida idea, ovvero quella di non avere idee e ha detto ma perché non portiamo i nostri approcci alla profumeria artistica? I nostri primi profumi acquistati? E lo zio ha detto, ma sai che mi sembra una bella idea? Io non ero d'accordo, però, vabbè, alla fine. Io ho detto, mi sembra una bella idea del cazzo. L'ho detto, però... Ah, e allora non l'ho letto tutto il messaggio. Eh vabbè, ormai siamo qua, quindi... Bisogna dire le cose come stanno. Io quando dico le cose, loro, come pregiudizio, già mi condannano. Cioè, loro partono già che mi devono condannare. Sempre. Fatti una domanda e datti una risposta. No, perché io porto cose smart, cose frizzanti. Invece voi siete là, carai. Non mi far parlare, non mi far parlare. Quindi, vabbè, questa sera i nostri primi acquisti, i nostri primi approcci alla profumeria di nicchia, chiamateli come cazzo volete, però i nostri primi profumi di nicchia. Io già so che le prenderò. Io già so che le prendo stasera. Già che dice così. E quello qui su, già quando nominerò il primo profumo, olè, parte a mille. Già che dice così, chissà che cazzo porta qui. No, perché noi non lo sappiamo. La puntata è i nostri primi tre acquisti nella profumeria di nicchia. Di nicchia. Di nicchia. No, perché sto dicendo nicchia e l'Axuri, quindi ho fatto un nicchia. Zio, scusami, ma tu dall'alto dei tuoi sette anni ti ricordi anche i tuoi primi acquisti? Ma perché alla fine il primo profumo di nicchia io l'ho preso che era il 2011. Ah, ok, ok. E all'epoca non collezionavo poi. Ho preso quello, dopo due anni ne ho preso un altro, dopo un paio d'anni ne ho preso un altro. Cioè io sono il più fresco, 2019, tu immagini. Ora, se mi parli degli ultimi cinque anni avrei grosse difficoltà a dirti l'ordine. Però i primi tre me lo ricordo. Va bene, va bene. Chi parte? Devo partire io? Vai. No, perché una volta ero sempre l'ultimo, sai. No, però siccome credo sei il più vecchio a livello di acquisti. In realtà, ma non lo so mica, sai, se sono il più vecchio a livello di acquisti. Vabbè, sei il più vecchio a livello di collezione. Sì, quello sì, però ricordiamo che sono anche il più giovane tra tutti. Ricordiamocelo. Comunque, il primo profumo... Marti non si direbbe, però... Sì, infatti. Bisogna essere giovani dentro, Simone. Tu sei bello che è andato. Nell'ultimo periodo ce l'avete con me, comunque, è abbastanza. No! Ci giochiamo, Simone. Mi fate parlare, sto vizio non l'avete perso, eh? Non mi fate mai parlare? Ci sei mancato. Io non so. Vaffanculo, va. Comunque, primo profumo. Allora, questo profumo l'ho comprato tanti, tanti anni fa. Credo fosse il 2007, 2007-2008. Ed è Joe Malone, non so se si vede, Pongranet Noir. Che cazzo ridete? Questi di cazzo. Tra gli anni lì lui è passato a vedere un filmetto e a comprare il profumo. Fatto un po' di confusione, però. In realtà pensavo... È entrato a profumo, ha visto Malone e ha detto, guarda, con questo trovo. È lui. Siete delle merde. Tra l'altro, non vorrei dire una cazzata, ma questo è proprio... È proprio lui del 2007. Ce n'è ancora un po' dentro. Oh ragazzi, io torno indietro nel tempo quando lo annuso. Non lo metto praticamente più da un sacco di tempo. Però vabbè, Joe Malone penso che comunque non abbia bisogno di presentazioni. Perché lo conoscono tutti. In questo caso abbiamo una colonia molto, molto fresca, molto fruttata, perché comunque oltre al discorso melograno, perché Pongranet, per voi ignoranti, è melograno, ma oltre al discorso melograno abbiamo il lampone, la prugna, il cocomero, il rabarbaro. Quindi è un approccio molto fruttato, molto speziato, perché comunque c'è la nota del chiodo di garofano, del peperosa. Però è fresco. Cioè non pensate a una frutta come vanno di moda adesso, questi fruttatoni pesanti, ambrati. No, lui comunque ha un approccio coloniale. Posso usare il termine coloniale? Ti prendi gli analti, ti piacevano già sui giornali inizia a te? No, no, dall'inizio... Dall'inizio mi sono sempre piaciuti i profumi buoni, buoni, ho sempre avuto buon gusto. Ecco, questa è una colonia bella, rinvigorente, fruttata, fresca, per l'inverno, in realtà io, per l'inverno o per l'estate, ma io lo usavo anche in inverno. Mi piace tantissimo, mi piaceva tantissimo, mi piace ancora perché mi riporta indietro nel tempo a quando ero fresco, giovane, aitante, prosperoso, eccetera, eccetera. Scusa, ma nel 2007 quanti anni avevi? Eh, nel 2007 avevo vent'anni, anche vent'anni. Pensate, era già vecchio, a vent'anni era già vecchio. Tu immagina. Allora, intanto non vi dico quanto cazzo cuccavo con questo profumo, eh. Dei tempi, eh. Ehi, bastardo. Poi le cose sono cambiate. Ma io esco, eh, ve lo dico, bastardi di merda. Vabbè, comunque, Pongranite Noir di Gio Malone, 2007-2008 circa. Quanto costava? Eh, che cazzo si ricorda? Penso una novantina di euro. Penso. Sarà a 200, visto gli aumenti che ci sono. Adesso sì. Sì, no, all'epoca penso che costasse sotto i 100 euro. Però non vorrei dire una stronzata, ho un ricordo un po' fuscato. Zio, vediamo ora. Il mio primo è stato Black Afgano, che naturalmente non è questo, perché quello là è finito, è finito da... Questo in realtà l'ho comprato due o tre anni fa. Ah, l'hai usato, vedo. Sì, sì, è vieno. L'ho preso più per un ricordo. Se tu guardi, è nuovo. Il primo che ho preso l'ho finito tipo nel 2013. Ho preso nel 2013, il 2013 è finito. E l'ho ripreso per un fattore collezionistico e tutto, pur sapendo che era stato riformulato. Non è più assolutamente il primo che comprai. Però devo anche dirti che i miei primi tre acquisti, che tra l'altro non sono stati in sequenza. Uno lì, uno due anni dopo, perché all'epoca non collezionavo. Sono più dettati da quello che in profumeria mi facevano sentire in quegli anni. Quindi non frutto di una mia ricerca o perché qualcuno aveva parlato bene di un profumo. Entravi nella profumeria, cerca un profumo, ti facevano provare. Logicamente ti facevano provare quello che volevano loro e di conseguenza compravi in base a quello che ti facevano provare. Il prezzo sinceramente non me lo ricordo nel 2012, quindi non vorrei dire cazzate. Penso che girava sempre intorno ai 100 euro. No, credo meno, credo Daniele. Non sono sicuro, forse 70 euro. Non lo so. Non lo so. Sono passati 11 anni. Però la cifra non me la ricordo. Mi piaceva e era comunque un profumo che qualcuno me l'aveva già fatto provare. Se ne parlicchiava. Non è che lo conoscevano tutti. Però mi ricordo un ragazzo che ce l'aveva, un mio amico, e ricordava un po' l'odore di quello che piace a te, no, Daniele? E quindi lo comprai, ma in realtà mi era piaciuto. Oggi non lo indosso nemmeno a piangere. Un po' perché non è più lui, un po' perché i miei gusti sono completamente diversi. Però questo è stato il mio primo acquisto. Tocca al mio, vero? Primo acquisto. Io non lo so se lo voglio vedere. E mo' so, cazzi. Ragazzi, il mio primo acquisto è stato pietra lavica. Ma vaffanculo. Acqua di taormina. E si è andato in gita un giorno e ha comprato un profumo al negozio di souvenir. A pietralcina. Stai zitto. Questo profumo ricorda le pietre rotolanti del fuoco che colano dal vulcano dell'Ett. Aventus. Praticamente Aventus. Uguale. Uguale, la stessa cosa. Ragazzi, praticamente volevo... Entravo nei bar, sentivo sempre Creed Aventus. Creed Aventus ho trovato un clone. Però, ragazzi, è profumeria di nicchia. Bravo. Anni e anni a combattere sul canale contro i cloni e poi arriva lui. Perché io non ho mai combattuto contro i cloni. Non avevo dubbi. Dai, ragazzi. L'entra ha comprato una calamita ad attaccare al frigorifero. E il profumo. Lo conoscono in tanti questo profumo. Non rompere il cavolo. Vedrai che lo scriveranno anche sotto. Ed è un clone fatto bene. Ecco. pure. Ragazzi, è il primo profumo che l'ho dovuto portare a lui. Non so se ti ricordi, zio, ma aveva portato anche un Aventus in un video, spacciandolo per originale, invece era un fake. No, no, ho spacciato per originale. Io l'ho detto in quel video che questo mi hanno fottuto, mi avevano inculato. L'hai detto dopo che ti abbiamo piccato. Anche te ti è ricascato come tester. La versione originale è la versione di merda. Ma posso farti una domanda, Dani? Ma l'hai mai avuta la versione originale? Ce l'ho la versione originale. Dai, non posso non avere Hell King, dai. No, tra fake e cloni magari ti sei sempre sentito a posto così. Uso di più lui. Non avevo dubbi. Ma perché mi dispiace finire l'altro? Qual lavoro l'ho usato? Com'è che si chiama, scusa? Pietralavica. Pietralavica. L'acqua di Tormina. Cioè, non capisco, no? Pietralavica con un clonaccio di Aventus. Qual è il filo con il terrore? Mi sarei aspettato un clone di Terroni, piuttosto. Esatto. Ora, Pietralavica e clone di Terroni. Vabbè. Ci sta. Eh, ma Pietralavica è uscito prima di Terroni. No, non è che il nome, non ci incastra un cazzo con Aventus. Eh, non so. Hanno cercato proprio due mondi diversi, ma alla fine è questo. Pietralavica. Aventus tutta la vita. Ananas. Bergamotto. Pietralavica. Frutti che crescono lì nei vulcani. Vabbè. Tocca di nuovo a me? Eh sì. Ok, tocca di nuovo a me. Allora, secondo profumo. Faccio una premessa, nel senso che in quel periodo non collezionavo, soprattutto non acquistavo profumi come li acquisto ora. E quindi il mio primo profumo, che è stato Pongrenet Noir di Gio Malone, è andato avanti per un po', nel senso che avevo la mia signature e la usavo tutto l'anno. Qualche anno dopo, quando poi ho iniziato ad interessarmi molto di più alla profumeria artistica, mi sono approcciato a un brand in particolare, che era Christian Dior, perché Christian Dior aveva la sua linea di profumi privati. All'epoca si chiamava la collezion privée e mi piaceva perché comunque, vuoi che non avevo ancora un naso allenatissimo, vuoi che non ero preparatissimo e quella linea mi piaceva perché la trovavo il giusto equilibrio tra la profumeria commerciale e la profumeria artistica. Il primo profumo è stato niente po' po' di meno che Bois d'Argent. Buonissimo. Scusa, un po' d'Argent l'ha fatto François d'Amoschie? Chi? Si chiama così, no? Puoi ripetere? François d'Amoschie. Diciamo che non si chiama proprio così, comunque no, 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 in realtà il naso era un altro, poi diciamo che in questo profumo ci hanno messo mano troppi, forse. E l'ultimo è stato pure Kurjan facendo uscire la nuova versione. Però vi devo dire una cosa, sono contentissimo perché già all'epoca non è che compravo formati troppo grossi, sono molto contento invece di aver comprato poi il 250 ml, proprio perché essendo stato riformulato veramente tanto negli anni, posso vantarmi di avere il vecchio Bois d'Argent che è veramente una figata. Io ho sentito anche l'ultimo e vabbè, certo, non posso dire che sono il bianco e il nero perché si sente che sono simili molto, però questa è tutta un'altra cosa. Profumo molto resinoso, ambrato, mirra, paciuli, cuoio, c'è una bella nota di miele che rende il tutto molto più creamy, oggi sono un po' internazionale, con questa nota di iris che gli dà un po' un touch leggermente polveroso e cipriato. Profumo, secondo me, veramente, non voglio dire da avere perché poi non sono nessuno, comprate quel cazzo che volete, soprattutto oggi che è cambiato, però è un master della profumeria, secondo me, e tutti almeno dovrebbero sentirlo una volta nella vita, compresi voi, bastardi. Eh, ma forse è quello tuo. Ma il problema è sentire la tua versione e non quella che c'è oggi. Beh, ripeto, io la versione che c'è oggi l'ho sentita, sì, non è la stessa, non posso dire cazzate, però comunque rimane ancora un gran bel profumo, ecco. Bene. Sta a me? Eh. Vai, vediamo. Prima o poi Simone lo proverò. Sì, aspetta che lo riformulano ancora. No, ma perché mi smonta quello, mi smonta quello, sapere che... Ho il solito interesse che ho di questo, lo vedi quanto ho usato? Zero. Perché? Perché lo so che non è più lui. Eh, ma tu questo già l'avevi usato, questo Buadarjan non lo conosci, quindi magari ti... Eh, magari c'è che lo sento, mi piace, però poi te mi dici, eh, ma non è più lui il mio, invece, a me mi girano i coglioni. Perché ti può piacere la versione nuova, dico la vecchia. Eh, il mio secondo profumo è il periodo, se non ricordo male, era 2014 o 2015, e eravamo a ridosso dell'estate, sono andato e ho chiesto un profumo per l'estate, e... Eh, ci sta. Acqua di sale, tra l'altro questo qui è un profumo... Quando è uscito, Simone, Acqua di sale? Acqua di sale, se non... Nel 996. Stesso anno di Acqua di Giù. Ma hai ripreparato, Daniele? Hai studiato? No, perché l'avevo letto da una parte. Allora, vi posso dire una cosa, vi devo dire che Black Afgano, sì, mi piaceva, ero un po' intrigato dal fatto, l'ashish, bla bla bla, Acqua di sale, invece, quando l'ho sentito, ho detto, wow, cioè, è stato proprio un profumo che l'ho scelto col naso, perché quando l'ho preso non l'avevo mai sentito. Naturalmente non è questo, eh, perché questa sarà la terza, quarta boccia dopo quello, perché io Acqua di sale ne faccio fuori uno quasi estate. È un profumo che ho scelto proprio con il naso, cioè, mi piaceva, non ero stato influenzato dall'Amico, la storiella, l'ashish, che poi all'epoca dicevano che Black Afgano ci avesse del vero ashish all'interno, non lo so. Invece Acqua di sale è stato proprio scelto, cioè, ho provato diverse cose, non mi ricordo naturalmente cosa, Acqua di sale, mi ricordo che mentre tornavo a casa ce l'avevo sul dorso della mano, in macchina continuavo a annusarlo, perché mi aveva colpito. Forse è stato il vero, primissimo profumo che mi ha fatto capire le reali differenze con la profumeria commerciale. Che avevo diversi profumi commerciali in casa, almeno una decina, perché comunque sin da ragazzino ho sempre avuto un po', tipo, non andavo all'aeroporto, io un paio di profumi mi ricompravo in vacanza, un paio di profumi mi ricompravo, però sempre rimanendo nei commerciali. Acqua di sale è quello che proprio mi ha fatto capire le differenze, perché non era influenzato da nulla, non era, almeno io non lo conoscevo, in profumeria non è che me l'hanno pompato, cosa che invece Black Afgano me l'hanno un po' pompato, io già un po' lo conoscevo. Quindi Acqua di sale è un profumo che ringrazierò per tutta la vita, perché è, secondo me, il vero profumo che mi ha introdotto nella nicchia. Poi si può dire che il DNA non è cambiato molto negli anni? Guarda, io ho avuto una sensazione da un anno all'altro, un tre o quattro anni fa, che qualche cosina fosse cambiato, però l'avevo finito in agosto e l'ho ricomprato maggio-giugno dell'anno dopo. Quindi non ho mai avuto la possibilità di fare il confronto diretto, uno su una mano, uno sull'altra. Però a memoria, secondo me, c'è stato un anno che qualche cosina può essere cambiata, però non ho la certezza matematica. Però ci sono casi, anzi, ci sono tantissimi casi che da un anno all'altro cambiano proprio, non dico radicalmente i profumi, però si sente? No, il DNA è sempre il solito, ma anche Black Afghan a quel punto il DNA è sempre il solito. Cambiano le materie, cambiano le performance. Non in acqua di sale. No, in acqua di sale e le performance sono sempre di altruose. Allora, posso dire che sono molto curioso quanto spaventato... Dal mio secondo? No, secondo me no. Se sei spaventato sei un cazzone a tu, scusa. E cazzo ne so io quale è il tuo secondo. Allora, dopo di lui avevo preso il famoso Creed, perché poi volevo il Creed, l'Aventus, e avevo preso quell'impurata. Il pezzotto. Preso da eBay, dunque ragazzi non acquistate da eBay e anche da Instagram, perché arrivano quelle fregature. E allora ho poi acquistato l'Aventus, quello reale. Poi, sentendo questa testa di cazzo, se non sbaglio l'aveva portato nei suoi profumi sexy, non lo so che caspita aveva fatto. Ce l'ha con te, Sio? No, no, ce l'ho con te. L'influenza dovresti essere tu. E ha presentato questo gioiellino. Che figata. Asivat di Nishan. Che figata. E qui siamo saliti anche di livello per i miei gusti, in base ad Aventus. Perché siamo sempre lì, però cercavo, c'è quel pompelmo, mamma mia. Buonissimo, buonissimo che tiene questo profumo qui. E qui ancora ti devo ringraziare, l'ho quasi finito. L'ho quasi finito. Il cazzo è che te ne mando un altro. Se magari me ne dai un altro, come mi hai regalato Age, visto che... Eh, certo. Con i Nishan sei d'accordo. Sai quanti ne hai fatti vendere di questi? Secondo me tanti. L'avevi messo al primo posto. Tanta roba. Tanta roba. Però lo si conosce, dunque inutile stare a raccontarlo. Niente, se volete una bomba di pompelmo addosso. Per certo che da pietra vulcanica lì a Asivat. Eh beh, comunque si cresce, si cresce anche con le scelte. Meno male che c'era Simone, eh. Semmai sai cosa prendeva dopo pietralavica lì. Il terzo prendevo dopo pietralavica. Quello che arriverà dopo. Ecco, a posto. Però, una domanda, prima che andiamo avanti. Simone, i tuoi primi profumi prese in profumeria o online? No, 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 io online... Anzi, ti dirò, compro molto di più, tra virgolette, online ora che prima. Cioè, prima mi piaceva andare in profumeria, perché comunque mi piaceva il rapporto umano. Per me comunque era una scoperta anche quello. Cioè, al di fuori poi del profumo, mi piaceva l'approccio che c'era in profumeria, in un certo tipo di profumeria. Mi piaceva il rapporto umano, mi piaceva scoprire. Cosa che poi negli anni si è un po' persa, ma non perché non mi piaccia più, ma semplicemente perché ormai, cioè, non sento più quello che sentivo una volta, no? Una volta era tutta una nuova scoperta e quindi c'era anche quell'emozione. Cosa che adesso forse è venuta un po' a mancare. E quindi compro un po' di più online, ce l'ho mai fatto un cazzo di andare in profumeria. Non perdo tempo. Compro online, mi arrivo a casa e grazie, arrivederci. Credo anche perché oggi tu hai ben chiaro in testa il tipo di profumeria che vuoi. Quindi non è più bisogno di andare in profumeria a scoprire, provare, eccetera, eccetera. Anche se... Io la maggior parte... Vabbè, lo sai, io vivo in una zona dove le profumerie non sono tantissime. Dunque mi devo sempre spostare per andarti a cercare. E poi le profumerie che girano qui più che altro sono i propri Montale, i classici, i Creed. Se vuoi andare a scoprire qualcosa di più... Perché andare a provare Creed vero? Prendiamo il clone, prendiamo... Infatti, bravissimo. Presa online. Ma poi lo sai che Daniele si sposta solo ed esclusivamente per le donne, per le profumerie... Ma non dire stronzate, mi sono spostato per la birra anche. Dunque... Ah, ecco. Va bene. Allora, ultimo mio profumo... Ragazzi... No, che ultimo... Ah, sì, giusto, ultimo. Eh, so, quanti cazzo ne ho importato. No, perché sono abituato che sei l'ultimo. Scusa. Eh, vedi, anche io ero abituato ad essere l'ultimo. Invece mi avete messo al primo posto. Bravi. Le gerarchie cambiano. Vanno rispettate, vanno rispettate. Quindi, ultimo mio profumo... Ragazzi, lo sapete. Al cuore non si comanda. Non potevo non portare non Aventus, ma comunque casa Creed. Il mio primo Creed acquistato non è Aventus, ma bensì... Himalaya. Ho qua un bel decantone da 250 ml. Si vede benissimo. Sì, bello definito. Top. Sì, sì, no, no, ma si legge bene. Si ho visto. Perfetto. C'è proprio cristallino. Ma che male ho fatto nella vita per soffrire così? Si è fatto prestare la telecamera da Sky. E' la connessione, non è la mia telecamera, è la connessione. Bastardi. Comunque, io in realtà, se non ricordo male, se la memoria non mi inganna, ma potrebbe ingannarmi, questa storia l'avevo già raccontata da qualche parte. Mi ricordo, il mio primo approccio a Creed è stato non in una profumeria, ma in una coltelleria a Milano, tra l'altro coltelleria di un certo tipo, anche molto famosa, che non faccio nome perché ovviamente non mi paga, ragazzo me ne frega di fare di pubblicità, però aveva anche una serie di profumeria. Ma è la festa che aveva acquistato in Du Gras? È la stessa dove... No. Perché aveva una coltelleria, l'avevi preso, sbaglio. Sì, 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 no, comunque non è quella. No, no, si vendono i profumi nelle coltellerie. Beh, cazzo, coltellerie di lusso, ma che cazzo ne sai te? Ah, stai giù. Profume e coltelle. Comunque, mi fai parlare? Come sempre, mi interrompi. Stavo dicendo. Quindi, sono entrato, volevo approcciarmi a questo brand, ovviamente io, sapete la mia passione del vetiver, io sono arrivato lì, vedendo una boccia verde con scritto original vetiver, ho detto, beh, questo. Lo sento, mi piace, esatto. Mi piace, lo compro. Vado a casa e vedo che nel sacchetto il carissimo gentiluomo mi aveva messo dei campioncini, sempre di Creed. Una sera dovevo uscire, ho detto, vabbè, sai che c'è? Invece che mettere il mio vetiver, mi sparo sto campioncino addosso. Insomma, era il campioncino di Malaya. Ve lo metto. Cazzo. Sono stato rapito. Mi sentivo figo. Non so se vi è mai successo quando mettete un profumo che vi sentite figo. Eh sì, è anche fresco. E mi sono sentito talmente uomo, talmente figo, talmente bello, talmente fresco, che siccome che il profumo non l'avevo ancora aperto, io il giorno dopo sono tornato dal gentiluomo e gli ho detto, senti, mi hai dato il campioncino di un profumo pazzesco, me lo cambi. Lui ha fatto anche una faccia un po' strana, però mi ha detto, vabbè, te lo cambio. E quindi mi sono comprato la mia prima boccia di Malaya. Ovviamente non era questo, ma bellissimo profumo. Vabbè, DNA classico di Casa Creed, quindi apertura super fresca, grumata, legnoso, con nota di ambra, grigia, chiamatela come cazzo volete. Pazzesco. Per me è un profumo pazzesco. Dura un sacco sulla pelle, dura 13-14 ore. Ma che cazzo. E cazzo ridete? Ma parche tu l'hai preso da ebay. No, io non compro su ebay. Comunque è veramente un bel profumo e ho un sacco di ricordi con questo profumo, anche ricordi che vorrei cancellare, ma purtroppo non riuscirò a cancellare, ma è veramente un profumo buono. Ok. Bello, sei stato molto dolce e poetico in questo tuo racconto. Poi anche quella nota anale che hai aggiunto alla fine, ci sta veramente bene. siamo circa nel 2016, se non ricordo male, o 2016 o 2017, Eterno di Simone Andreoli. che naturalmente non è questo perché se non ricordo male, una volta la boccia era trasparente, questo l'ho preso due o tre anni fa, profumo che anche in questo caso ho scelto con il mio naso e Simone mi dirà che cazzo di naso che hai, però è un profumo che a me piace, piace veramente tanto, anche se poi alla fine non lo indosso mai perché è molto prepotente, ha delle performance disumane, però anche quelle performance che ha la lunga possono anche stufare. Tipo Imalaia? Tipo Imalaia, sì esatto. Imalaia. Infatti Imalaia io non l'ho preso per paura delle performance, sai, quelle un po' troppo di vasi. Infatti lo paragonano a Interlude. E questo è stato il mio primo Andreoli che ho preso, da lì poi ero un po' scemmiato con gli Andreoli perché a me piace prendere più profumi di un brand, di Andreoli ne ho diversi e questo però è stato il primo ed è stato il mio terzo profumo di nicchia scelto. Perché punto su questo fattore? Perché Black Afgano, vi dico la verità, non l'ho mai sentito proprio mio, l'ho preso più per un coinvolgimento amico e profumeria e storytelling ed è per quello che io... Beh, posso dirti una cosa? Tra l'altro io mi ricordo molto bene quando ero uscito Black Afgano e i social, soprattutto comunque la community del profumo non era così grande, così allargata, i creatori di contenuti non erano poi così tanti, eppure quello era un profumo che aveva fatto chiacchierare veramente tanto, cioè si sentiva parlare tanto di Black Afgano. Sì, considera che io non frequentavo gruppi Facebook, non guardavo, non so nemmeno se in anni c'era qualcuno che faceva i video su YouTube Italia, no no, io avevo un amico che ce l'aveva e poi quando sono andato in profumeria come ho detto, ma ho sentito Black Afgano, questa qui mi è saltata addosso, ah sì, questo, lasci, questo, capito? Quindi non l'ho proprio scelto io e quindi oggi mi sta un po' indigesto, ecco, mettiamola così. Perché non l'hai scelto tu, però rimane ancora un bel profumo. Sì, guarda, me lo so spruzzato ora, non mi piace, proprio, me lo ricordavo che non mi piaceva e continuerà a rimanere pieno ad oltranza. Poi ha conosciuto la rosa, è da lì. No, no, ma anche prima, non è, sono odori, per me non sono profumi. Ah, ecco, e ora arriva un odore, zio, perché rimaniamo sempre in casa Gualtieri, però andiamo dall'altra parte, andiamo in casa Orto Parisi. Guarda, potrei anche indovinare. Ragazzi, non l'ho mai portato, è stato il mio terzo profumo, cioè oggi ha detto, cazzo, finalmente ci riesco, ora lo porto, lo devo portare, me lo spruzzo prima. Ah, ha chiamato moglie, Ivan. Per piacere, sostituite il ragazzone là con la moglie, con la Silvia, perché parliamo di Seminalis di Orto Parisi, mai nominato dal sottoscritto, non credo di averlo mai nominato. Oh, ce l'ha fatta, eh, a infilarlo dentro, come io non l'ha preso tre mesi fa, ma pur di portarlo. Ma che cazzo dici? Guardalo, guarda quanto è bello. Cioè, è pieno, eh. Ma che cazzo dici? È pieno. Voglio vedere, quanto ce n'è? È cazzo pieno. Che faccio? Mi bombardo come te. Ma che scusa, quello lì? Avrà messo tre volte. C'è una domenoria che l'ho preso un anno fa, l'ho preso. Ma che significa? Perché la Silvia spruzza, perché segue una persona che mette un sacco di roba addosso e te lo faccio pure io, se no mi sovrasta, ma è normale. Sei bugiardo, sei bugiardo. Sei fake come ti profumi. Island Water che gli dura sette, otto ore a casa sua, ha detto. A casa mia dura un sacco. E questo profumo qui, tre spruzzi e ti fai quelle sei, sette ore tranquillamente. Il senso di te non dura, perché è una pelle di coccodrillo di merda. Io il profumo non l'ho mai indossato, non l'indosserò mai. L'ho provato un giorno. Perché non capisci un cazzo. Ma no. Sa di latte acido. Non sa di latte acido. È un profumo dolce, che sa di latte leggermente, cioè leggermente, legnosetto nel fondo. Però è buonissimo. È fatto bene. Ed è il mio Ortoparisi preferito. Nessuno lo metterebbe al primo posto. Per me è il mio Ortoparisi preferito. Dunque andate a cacare. Pezzi di merda. Scusate, è stato solo un leggero sfogo. Vabbè, insomma. Si poteva anche aspettare, l'abbiamo servita su un tetto d'argento. Sì, no, ma intanto l'avevi azzeccata stamani te, l'avevi detto, tanto ci porterà seminali. Di solità. Ragazzi. Se colpa vostro. Doveva portare una puntata dei tabacosi, la vuole a portare. Mi portare a me dice. Stranzone. Nei cuoiati. Lui la porterebbe ovunque. Ne cuoiati. Scusa a nome del trio. Ma scusa di te. Ma non stavo parlando di te. Hai la cosa di paglia? Hai la cosa di paglia? No, no, la cosa di paglia. Mi sento bombardato. Mi devo difendere. Eh, chissà come mai. Eh, vabbè. Va bene. Dai, ragazzi. Io direi che 35 minuti basta perché poi non vorrei che tirasse fuori qualche altra chicca. Sia mai. Ma che cazzo. Hai portato Joe Malone. Mi posso salutare. Ma dai. Che cazzo ne sei tu di Joe Malone. Tu hai visto il VHF. Sì, è sempre meglio Simone. Proprio, cioè. Allora. Ora sei in 8K. Zio, ti posso dire com'è andata? Poi chiudiamo. Lui ha visto il VHF di Joe Malone. Ok? Sicuramente la ragazza. A parte che sono VHS. VHF. Vabbè, VHF. VHS. Vabbè. Va bene. Sicuramente la ragazza nel film. Perché sicuramente sarà stato un famosissimo film. Avrà detto che profumo che hai. Tu avrai letto Joe Malone pensando che fosse il profumo dell'attore. Lo sei andato a prendere. Dì che è andato così. Dai. Ragazzi, buonanotte. Ci vediamo settimana prossima. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Seminatevi. SEMINATEVI. SEMINATEVI.